hello everybody hello everybody eccoci qua buonasera siamo felici chi parla siamo più che di cominciare here we are eccoci qua buonasera a tutti buonasera che dire un altro mondo sbarca a toronto sbarca in canada we're making this attempt to speak in english in your honor and i hope you do understand us siamo più che dire siamo felici onorati entusiasti more than happy more than excited we are just ecstatic yes siamo felicissimi siamo più che felici del fatto che un altro mondo a distanza di anni continua a viaggiare per il mondo e arriva a toronto in canada thank you australia for giving us the chance to travel above the ocean yeah and to bring un altro mondo with you in toronto in canada which is a dream for us è un paese che noi amiamo particolarmente abbiamo molti amici che vivono a toronto speriamo stasera se non lì tra le 600 persone che sgrediranno quella sala me lo auguro perché se poi mi dite che invece la sala era mezza vuota non penso di potermi rivedere da questa brutta figura non accadrà mai per cui esatto but we hope you enjoy the movie it meant so much to us this movie we're so happy that you're watching it tonight so we have an email and actually we would love you to to send us the comments on our on this mail and of course we will answer it yeah so have a good time have a wonderful time and actually we 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 promise you that the next movie we're going to pretend present the movie yeah with you personally and promettiamo che il prossimo film lo verremo a presentare fisicamente lì con voi in sala con voi in person it doesn't sound like a thread more than promise yeah grazie altra italia grazie all'altra italia per averci portato sul futuro sì i hope we will see each other soon not from just through a video but in person fateci sapere a presto buona visione buona serata e ancora grazie grazie mille davvero a presto ciao 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 ciao